salve ragazze e ragazzi salve amiche ed amici che mi seguite solo una breve considerazione dopo il video di oggi ma vi rendete conto che classe politica ci abbiamo che classe dirigente che hanno delle reazioni strane scomposte tutte uguali ma che avranno in comune per esempio nel 2011 la elsa fornero si mandò un pianto perché stava accanto a monti e doveva annunciare la riforma delle pensioni e comparvero molti cartelli per le strade dai elsa non piangere che tu non andrei a lavorare fino ai 67 anni nei cantieri però la elsa ecco qua le immagini di quella povera disgraziata e sventurata della elsa fornero e quali hanno fatto un poster fornero non piangere sui cantieri fino a 67 anni non ci vai mica tu ma non è stata la sola a piangere infatti la raggi appena salite le scale del campidoglio i gradini che ha fatto ha rotto in lacrime è una sindrome del potere no chi ce l'ha piange direbbe giulio andreotti non ci credete ecco qua la raggi che piange orina in lacrime che dolore piangono tutti quando vanno al potere adesso è la nuova moda o non c'è uno che ride vabbè che la gente gli direbbe ridi su sto cazzo ma non so ecco questo mio breve video proprio video esternazione tutti piangono quando sono ministri o quando sono sindaci è una nuova moda il pianisteo stavo a dire il pianisteo al colosseo speriamo che sia diverso perché mentre la fornero dopo che ha pianto lei ha fatto piangere milioni di italiani speriamo che la raggi non faccia piangere milioni di romani e con questa mia breve riflessione provocatrice del giorno vi lascio care amiche ed amici qui il vostro santenchan vi ho lanciato una pigliola di saggezza adesso la vado ad evitare se no ci mette un mucchio di tempo mi raccomando non lasciate di seguirmi se mi seguite continuate a farlo se no iniziate a farlo vi saluto riflettendo su questo la fornero alla raggi piangono all'assumere l'incarico speriamo che come la fornero quando la raggi se ne vadi non ci lasci piangendo a noi un arrivederci e un grazie a tutte e tutti voi di seguirmi ciao dal vostro santenchan grazie 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 grazie